In questa lezione dedicata alla lingua inglese faremo alcuni esercizi che ci permetteranno ancora una volta di imparare nuovi vocaboli inglesi, ma soprattutto di introdurre alcune fondamentali regole di pronuncia. Tali esercizi concludono le quattro precedenti lezioni del nostro corso dedicate allo studio dei vocaboli. Cominciamo dal primo esercizio. che ci chiede di scrivere i nomi delle varie figure. Queste parole hanno una caratteristica comune. Oltre ad essere monosillabiche, esse contengono una lettera A che deve essere pronunciata con un suono a metà strada tra la A e la E. Si tratta di man, che significa uomo, di fan, che significa ventilatore, di bag, che significa borsa, di lamp, che significa lampada e di apple, che significa mela. Notare come nella parola apple il PLE finale di parola viene pronunciato Paul. Nei libri di testo viene spesso detto che in inglese, differentemente dall'italiano, le doppie consonanti non vengono pronunciate. Questo non è del tutto vero. Semplicemente l'accento inglese permette con maggiore difficoltà che in italiano di rendersi conto della presenza di una consonante doppia. Inoltre in alcuni casi la presenza o assenza di una consonante doppia può cambiare radicalmente la pronuncia di una parola. Chi ha visto il film del 2004 Mean Girls lo sa bene. All'inizio la protagonista del film, Katie, deve sempre ricordare a tutti che il suo nome si scrive con una D sola e che quindi si pronuncia Katie, mentre inizialmente tutti tendono a chiamarla come se fosse scritto con due D, e cioè Katie. Quindi attenzione, Katie, Katie. Nel caso di Apple, se non fosse presente la doppia P, la parola si pronuncerebbe Apple. La parola man è grammaticalmente molto interessante. Infatti, differentemente dalle altre parole, che formano il plurale regolarmente aggiungendo una lettera S al singolare, la parola man ha un plurale irregolare. Si tratta di men, dove la E viene pronunciata come in italiano. Attenzione quindi alla pronuncia di queste due parole, man e men. La parola donna è in inglese un composto della parola man e come tale ne conserva la pronuncia. Attenzione però perché al plurale, stranamente, il doppia VO iniziale di parola viene pronunciato we. Le due parole sono quindi woman, che significa donna, e women, che significa donne. Nel riquadro sottostante vengono mostrate altre cinque parole con una caratteristica in comune. Esse contengono una lettera U, che in questo particolare caso deve essere pronunciata con un suono a metà strada tra la A e la O. Si tratta di bus, che significa autobus, di cup, che significa tazza, di umbrella, che significa ombrello, di button, che significa bottone, e di rubber, che significa gomma. Button ha una pronuncia che può ricordare quella di un'altra parola, bottom, che significa fondo o sedere. Ma attenzione alla differenza di pronuncia tra queste due parole. Button e bottom. Rubber significa gomma da cancellare. Gomma da masticare, o gomma nel senso del materiale, si dice invece gum, altra parola in cui la lettera U deve essere pronunciata con un suono a metà strada tra la A e la O. Gum, tra parentesi, significa anche gengiva. Nel prossimo esercizio sono riportati i nomi di alcuni numeri inglesi. Il nostro compito è quello di abbinare ad ogni parola il suo simbolo. Ten significa ad esempio dieci. Two significa invece due. Six significa sei. Four significa quattro. Notare la particolare pronuncia della parola four, nella quale il dittongo OU viene pronunciato come una O dal suono lungo. Seven significa invece sette. Approfittiamo di questa occasione per parlare anche dei numeri utilizzati per numerare le domande. Undici si dice eleven. Notare come la E iniziale di parola si pronunci i. Notare la presenza del prefisso TW come nel numero two, cioè due. La stessa cosa accade del resto anche in italiano, dove il prefisso DO rimanda al numero due. Tredici si dice in inglese thirteen. Notare come la I venga in questa parola pronunciata come una E molto chiusa. Quattordici si dice invece FOURTEEN. Notare la presenza del prefisso FOUR come nel numero FOUR, cioè quattro. La stessa cosa accade del resto anche in italiano, dove il prefisso QUATTOR rimanda al numero quattro. Quindici si dice in inglese FIFTEEN. Notare la presenza del prefisso FIF come nel numero FIVE, cioè cinque. La stessa cosa accade del resto anche in italiano, dove il prefisso QUEEN rimanda al numero cinque. In inglese i numeri tra il tredici e il diciannove finiscono tutti con il suffisso TEEN. È il motivo per cui coloro che hanno un'età compresa tra i tredici e i diciannove anni vengono chiamati TEENAGERS. TEENAGERS traduce la parola italiana ADOLESCENTI, mentre ADOLESCENZA si traduce TEENAGE, che letteralmente significa ETÀ DEL TEEN. In inglese il dittongo doppia E si pronuncia sempre come una I dal suono lungo. Come tale, l'accento della parola cade sempre su di esso. L'ultimo argomento riguarda come leggere l'ora in inglese. Potrete scaricare la dispensa completa su come leggere l'ora in inglese nel sito di English Class. www.englishclass.alterbista.org La pagina contenente la dispensa si trova nella sezione di lezioni di inglese, visibile intestata. In questa lezione daremo per scontato questo argomento e ci limiteremo unicamente a riportare la soluzione delle varie domande. Riguardo questo argomento, e cioè come leggere l'ora in inglese, avremo modo nei prossimi video di fare tanti altri esercizi. Il sito di English Class contiene anche una ricchissima sezione di grammatica inglese, con chiare e dettagliate dispense scaricabili a pagamento, una ricchissima sezione di fonetica, esercizi svolti da scaricare gratuitamente, e molto altro ancora. Inoltre, non mancate di visitare la sezione di letteratura inglese, che contiene le biografie degli autori, le traduzioni e l'analisi delle loro opere, sia in italiano che in inglese. Un saluto e ci rivediamo nella prossima lezione! Grazie! Grazie! Grazie!